Era diventato un caso politico, ma oggi, dopo vari rimpalli di responsabilità, a Villa Fastigi è stata aperta la nuova struttura riabilitativa sanitaria. A confermare la notizia è stato il consigliere regionale Andrea Biancani con un posto sui social network. 30 posti sono già disponibili per accogliere pazienti risultati positivi al covid-19, dimessi da altri ospedali e con un respiro stabilizzato da almeno 72 ore. Dopo la firma della convenzione tra pubblico e privato, nei prossimi giorni dovrà essere definito il protocollo operativo per ulteriori 80 posti letto nell'altra ala della RSA. La nostra è una struttura di tipo estensivo, di riabilitazione estensiva, autorizzata al ricovero di pazienti covid-positivi in fase post-critica. Sono pazienti che sono in via di stabilizzazione per i quali noi, oltre a seguire la parte clinica di stabilizzazione, assucuriamo un primo trattamento di tipo riabilitativo. I pazienti, precisa il direttore sanitario dell'istituto, arrivano principalmente dagli ospedali della provincia di Pesero Urbino, ma non solo. Provengono ad esempio anche dalla casa di cura Villa dei Pini di Civita Nova Marche, nella quale sono state ricoverate alcune persone residenti nel Pesarese. Tenendo conto che prendiamo pazienti che in una fase post-critica a cui dobbiamo ancora fare i tamponi per verificare l'eventuale negatività, quindi dobbiamo presumere che prima di 15-20 giorni non li potremo fare, i periodi di degenza potrebbero aggirarsi attorno al mese. Dipenderà ovviamente molto dalle condizioni di questi pazienti e dal percorso di riattivazione e quindi anche riabilitativo che devono fare, per il quale noi comunque siamo preparati.